Ciao a tutti e buon Natale! Per festeggiare questo Natale e per festeggiare anche un anno dalla nascita di Scacchista Matteo, infatti proprio a dicembre ho avuto quest'idea, oggi vi farò un regalo, vi porterò una lezione, anzi la lezione che reputo più importante che mi è stata fatta un po' di anni fa quando ero seconda nazionale e che secondo me è stata la più importante per la mia crescita scacchistica, infatti ho imparato un tema che si può utilizzare nel medio gioco che ha permesso di vincere tantissime partite e allora proverò a fare questa lezione a voi in modo tale che possiate imparare come io ho imparato molti anni fa. Se avete ovviamente dubbi fatemi sapere nei commenti così magari vi spiego meglio questi concetti. La partita che vi porto è tra John Nann e Christopher Ward, due fortissimi grandi maestri. Ma prima di iniziare come sempre vi invito a iscriverti al canale YouTube, stavolta quindi ve lo chiedo come regalo di Natale per scambiarci gli auguri. Infatti iscrivendomi supporterete questo canale o se siete già iscritti e volete farmi un altro regalo di Natale poi avete altri tre modi, quindi mettere il like in modo da stimolare l'algoritmo di YouTube e farmi andare nell'home page di altre persone, commentate, ci scambiamo magari gli auguri di Natale nei commenti o condividere il video in altre piattaforme come Facebook o altri social lettori e come dividerlo con i vostri amici. Ma cominciamo subito. Allora, questa partita qui il bianco ha giocato a E4, C5, difesa siciliana, cavallo F3, D6, D4, vedone per, cavallo per, quindi siciliana aperta, cavallo F6, cavallo C3. Qui vado veloce perché comunque la siciliana già un po' la conoscete, se invece non l'avete visto il video siciliana in 10 minuti ve lo metto e qui sopra così potete vederlo. È un video in cui spiego i principali temi della difesa siciliana. G6 e alfiere 3. Apertura, difesa siciliana, Dragone. Dragone è una delle varianti siciliana più giocate, anche più conosciute, una variante molto complicata, una variante di attacco. Perché vi porto questa partita? Perché in questa partita vi spiegherò il tema di attacco con gli erocchi eterogenei, un tema a me molto caro, infatti sono un giocatore aggressivo di attacco e grazie a questi principi, a questo tema, ho vinto tantissime partite e quindi vorrei portarvelo, vorrei cercare di spiegarvi quali sono i principi chiave nell'attacco con gli erocchi eterogenei. Anche se siete un giocatore posizionale, secondo me è sicuramente utile una lezione su questo tema, perché comunque, a prescindere dal vostro gioco, sapere attaccare è fondamentale negli scacchi. Quindi anche se preferite apertura e maglie posizionali, se vi trovate in una partita di attacco dovete sapere attaccare, a prescindere dal vostro stile. Come allo stesso tempo, se siete un giocatore aggressivo, e questo è anche un messaggio per me stesso, dovete anche studiare le partite posizionali. Questo è chiaro perché un giocatore forte deve sapere giocare in entrambi gli stili. Vi racconto un aneddoto prima di proseguire. Questa partita, e quindi questa lezione, mi sono fatta pochi giorni prima del campionato italiano giovanile under 12, perché stavo giocando con il mio maestro, il mio maestro mi ha giocato una partita a roccando lungo, io avevo roccato corto, e praticamente mi ha creato un attacco incredibile e mi ha battuto in poche mosse, cioè non ci ho capito nulla, non sono riuscito a completare il mio attacco, che già ho preso matto. E quindi ho chiesto, ma come hai fatto, cosa ho sbagliato, che è successo, perché non ci ho capito nulla. E allora mi ha fatto questa lezione e mi ha spiegato come si attacca con i rocchi eterogenei. Io il giorno dopo, che era il primo turno del campionato italiano giovanile, ho giocato la rocco lungo, ho creato la rocca eterogenea, perché la persona va già a roccato corto, e ho fatto lo stesso attacco e ho vinto. Quindi questo per farvi capire come questo tema, se si riesce a comprendere bene, se il vostro avversario invece non lo conosce, diventa fondamentale, diventa veramente un'arma pazzesca per vincere le partite. E allora vediamo come si attacca con gli rocchi eterogenei. Quindi alfiere 3, difettazione del dragone, alfiere g7. Il nero ha come obiettivo di fianchettare l'alfiere e attaccare su questa diagonale. Questo alfiere sarà fortissimo per il nero e assolutamente dovrà cercare di non perderlo. F3, con l'idea di evitare cavallo g4, allo stesso tempo il bianco non vuole perdere l'alfiere camposcuro. Infatti questo alfiere servirà per il bianco per cercare di cambiarlo con l'alfiere camposcuro del nero e quindi appunto una mossa come cavallo g4 minaccia il cambio del cavallo per l'alfiere e dovrà essere evitata con f3. Cavallo in c6, sviluppo normale, donna d2, si libera la possibilità di arroccare lungo e quindi il bianco già chiarisce il suo piano che sarà quello di arroccare lungo e poi attaccare nel lato di re. Il nero ha rocca corto, alfiere c4. In realtà esiste anche g4, si può pure giocare, magari prima arrocco lungo e poi g4 tenendo l'alfiere in f1. È la variante che gioco io, quindi preferisco non sviluppare l'alfiere ma subito arroccare e attaccare, però è assolutamente giocabile anche alfiere c4. Alfiere in d7, arrocco lungo, donna in a5. Questa è una delle varianti principali del dragone, in realtà ne esistono tantissime altre, ma questa probabilmente è una delle più aggressive, perché come vedete il bianco e il nero hanno gli arrocchi eterogeni e quindi l'obiettivo del nero sarà quella di attaccare con tutti i pezzi contro il re nemico e il bianco vorrà attaccare contro il re nero. Ora giunge già un dilemma. Come si attacca? Si attacca con i pezzi o con i pedoni? Questo è un dubbio fondamentale perché entrambe le metodologie di attacco hanno dei vantaggi e dei svantaggi. Allora analizziamole. Attaccare con i pezzi conviene perché è un attacco più rapido, quindi subito i pezzi possono raggiungere le case vicine al re e quindi attaccare il re avversario. Lo svantaggio è che se la struttura primaria del re dell'arrocco è solida, non ha debolezze, e allora l'attacco con i pezzi risulta inefficace. Non si riesce a sfondare, non si riesce a creare un attacco forte. Infatti in questo caso i pedoni H7, F7 e G6 insieme e soprattutto insieme all'altiere G7 riescono a difendere tutte le case. È difficile creare un attacco solo con i pezzi, quindi per esempio portando il cavallo in G5, la regina in H4 e così via, non si riesce a sfondare. Quindi veloce sì, ma a volte inefficace. Invece se magari già persistono delle debolezze, immaginate se non ci fosse l'alfiere in G7 che difende le case nere o se non ci fosse il pedone in G6 per esempio, allora sì che l'attacco con i pezzi sarebbe conveniente. Andiamo invece all'attacco con i pedoni. L'attacco con i pedoni conviene quando la struttura primaria del nero è solida e quindi serve sfondarla. Infatti i pedoni riescono in un attimo a sfondare, ad attaccare i pedoni avversari e quindi aprire le linee. Quali sono i vantaggi dell'attacco con i pedoni? Sono aprire le linee, come vi dicevo, infatti l'attacco con i pedoni porta le torri subito ad avere una posizione ottima direttamente dalla prima traversa. Torre in giro e torre in H1 sono nella posizione ottima. Invece l'attacco con i pezzi si dovrebbe magari fare una manovra, per esempio, ve lo togliere le frecce, torre F1, F4, torre F3, torre G3, per attivarli. È una manovra molto lenta. L'attacco con i pedoni ha anche delle debolezze. Infatti l'attacco con i pedoni è molto lento e questa è la principale debolezza. Vanno i pedoni a passo di lumaca, quindi chiaramente può essere fatto solo in particolare condizioni. Quali sono queste condizioni? O quando gli arrocchi sono eterogenei e quindi non si ha paura di indebrivere il proprio arrocco, oppure quando gli arrocchi sono nella stessa lato, nel medesimo lato, ma il centro è bloccato, quindi per esempio in maggiorata posizione con i pedoni E5 e D4 e il nero pedoni D5 e D6, centro bloccato e allora si può magari fare Re H1 e spingere i pedoni. Si può fare. Oppure un altro punto fondamentale, quindi come notate, la posizione del Re è fondamentale nella scelta dell'attacco, se è con i pedoni o con i pezzi. Nel caso in cui gli arrocchi sono in medesimo lato, si può attaccare con i pedoni se il centro, pur non essendo bloccato, è solido. Quindi immaginando la posizione con pedone C3 che difende il pedone D4, un altro pedone D4, quindi avete completo controllo del centro, non vi sono particolari debolezze e allora potete fare Re H1, F4 magari e attaccare con i pedoni. Questi sono i casi molto in sintesi, ovviamente ci sono delle eccezioni ma più o meno gli attacchi vanno in questa maniera. H4, quindi in questo caso ovviamente a rocchi eterogenei si può attaccare con i pedoni, gli attaccare con i pezzi non conviene perché il nero è super difeso. Ah, dimenticavo, vabbè, magari ve ne parlo tra due mosse. Cavalline 5, il cavallo viene portato in una posizione centrale e soprattutto attacca l'alfiere in C4, alfiere in B3 per difendersi dal fiere, torre in C8, G4. Dimenticavo, ve lo dico ora, che l'attacco con i pedoni assolutamente corretto ma il dubbio fondamentale è quanti pedoni bisogna avanzare perché il fatto che l'attacco con i pedoni è lento porta chiaramente a dover chiarire questo dubbio perché se avanziamo tutti i pedoni, quindi G, H, F, è ancora più lento e quindi rischiamo che nel frattempo il nero attacca con i pezzi e in un attimo è arrivato e ci dà matto. Quindi la regola è avanzare il numero di pedoni sufficiente, quindi il minimo numero di pedoni sufficiente per creare una debolezza al rocco nemico. In questo caso sono due, infatti l'obiettivo è fare H5, pedone per e aprire la colonna H. Non serve quindi in questo caso avanzare il pedone F, ma magari in alcune situazioni basta un solo pedone e allora si avanza il pedone H, G o F a seconda del caso, si crea la debolezza e poi si attacca con i pezzi. Difficilmente bisogna portare tutti e tre i pedoni perché rischia di essere troppo lento, quindi il rischio è che l'avversario riesca a portare a termine l'attacco e noi siamo ancora nella posizione che abbiamo spinto i tre i pedoni. Quindi quando si attacca con i rocchetti erogenei bisogna stare attenti alla velocità. Chi arriva primo vince in questi attacchi, sono partite molto squilibrate, molto taglienti e la velocità è quella fondamentale, ma ovviamente bisogna sempre dare un occhio all'attacco e un occhio alla difesa, non solo attaccare, se no senza difesa si rischia di perdere. E allora B5, anche il nero opta per un attacco con il pedone B, H5, il bianco è quasi arrivato, già c'è una minaccia verso il pedone G6, cavallo C4. In realtà l'idea di B5 è molto sottile, quella di difendere la casa in C4 e poter attaccare l'alfiere camposcuro oltre alla regina. Il bianco, come abbiamo detto prima, non può in alcun modo permettersi di perdere l'alfiere campo scuro, anche se è un semplice cambio come l'alfiere valgono uguale, ma l'alfiere campo scuro è fondamentale in queste posizioni, quindi meglio cedere l'alfiere campo chiaro. Alfiere per C4. B per C4. Un tema, anzi torno un attimo indietro perché questo è più importante, un tema molto comune nel dragone è il sacrificio di torre sul cavallo. Questo perché si elimina il difensore, si crea magari una debolezza nel caso in cui si debba mangiare di pedone e poi l'attacco con i pezzi, avendo creato una debolezza, come detto prima, può funzionare. Quindi nel dragone molto spesso questa torre vale meno di questo alfiere. Cioè il nero preferisce dare la torre piuttosto che cambiare l'alfiere per il cavallo. Quindi ipotizziamo che non ci siano i tre cavalli, meglio dare la torre piuttosto che l'alfiere. In questo caso invece il piano è diverso. Il piano è aprire la colonna B e ora attaccare con i pezzi. Il nero non ha più alcun interesse di attaccare con i pedoni perché chiaramente la colonna B è già aperta. Anche se, vi spoilerò un po', l'attacco sul piano B2 a volte si può ignorare. A volte il bianco lascia, consente al nero di mangiare il piano B2 perché può creare un attacco molto più forte nel lato di re e mentre il re bianco può scappare. Nel caso in cui magari c'è una donna per B2 scacco, il bianco può scappare. Lo vedremo tra poco. Alfiere H6, eccoci qui. Secondo voi alfiere per alfiere è una mossa corretta? Assolutamente no. Il nero non può, come dicevo, cedere questo alfiere e quindi l'alfiere H8 è forzata. Cavallo F5 è già una prima mossa molto interessante ma ovviamente non si può mangiare di pedone, se no c'è donna G5 e poi scacco matto. quindi è un finto sacrificio ma soprattutto è una mossa molto interessante perché questo cavallo sta già minacciando scacco matto e siamo alla 17esima mossa. Quindi già capite quanto è tagliente questa posizione. Questo cavallo non si può mangiare di alfiere però vediamola perché è interessante. Alfiere per F5 non funziona perché pedone per R, torre in B8 per attaccare la colonna B, H per G6, vabbè ora vedremo perché si mangia di E e non di G, ora ci arriviamo. F per G6, donna E3, eccoci qui. Mangiando di E si apre la colonna E e si minaccia il matto in E6. Un matto è quasi inevitabile, cioè l'unico modo per evitarlo è donna E5 ma cambiando le regine qui il bianco ha un netto vantaggio. La sottopione del nero è abominevole quindi direi che è qui assolutamente posizione favorevole per il bianco. Quindi il nero non mangia e fa torre in E8. Eravamo in questa posizione torre in E8 per difendere il pedone in E7. Assolutamente corretto. Donna G5 arrivano i pezzi, i pedoni stanno attaccando, la debolezza si sta per creare, infatti si sta per aprire la colonna H e allora portiamo i pezzi pesanti. Arrivano le armi pesanti. Donna G5, donna B6 in modo tale di attaccare B2, pedone per è giunto il momento di aprire la colonna H, F per G6, alfiere G7. E questa è proprio la dimostrazione di quanto è importante per il bianco eliminare l'alfiere campo scuro. Cioè il bianco è disposto a cedere due pezzi alfiere e cavallo pur di eliminare il difensore avversario, ovvero l'alfiere. Questo proprio dimostra in queste varianti quanto è importante questo alfiere di fianchetto. Quindi se lo gioca da nero quanto è importante cercare di tenere questo alfiere. Da bianco invece quanto è fondamentale cercare di cambiarlo. Wow, questa mossa è veramente fantastica. Alfiere per alfiere a questo punto inevitabile. Cavallo per alfiere e qui il nero rifiuta il sacrificio, non mangia di re, però vediamo re per G7 questa variante perché comunque è interessante. Cavallo D5 molto forte, non può il nero mangiare perché sennò arriva donna H6 scacco. Il cavallo attacca la regina, per esempio, può scappare in A5, ma attenzione perché donna H6 scacco, re in F7, cavallo per, pedone per, torre per D6 e qui l'attacco è pazzesco. Minasso donna per H7, minasso torre per D7, per esempio alfiere in E6, donna per H7, re in F8, torre per E6, sacrificio della torre perché segue torre per torre, donna B7, minasso a torre e matto in H8. Partita finita. Wow! Ma il nero, fortissimo, grande maestro, decide di non mangiare il cavallo e giura torre in B8. Quindi risponde con un contraattacco. Si attacca il cavallo in B2. Come vi anticipavo prima, il bianco può fregarsene di questa minaccia anche se a prima vista sarebbero, oh mio Dio, cioè questa regina arriva in B2, è un casino. E invece no. Cavallo H5, guardate qui, il nero non mangia, non fa donna per B2, ma giura cavallo per H5. Vediamo però questa variante. Donna per B2 scacco, re in D2, qui il bianco si salva. E questo è molto importante saperlo a priori, cioè prima di giocare questa linea, perché è difficile che voi in partita riusciate ad analizzare così in profondità, ma qui anche in grande maestro è difficile che ci riesca. Quindi sapere questo tema a priori è fondamentale per questo. Questo è il motivo per cui serve studiare e appunto ricevere queste lezioni. In questo caso è vero che il re è una posizione brutta, ma l'attacco del bianco è molto più forte e il nero non riesce a concretizzare il vantaggio. Vediamo per esempio torre in F8 per difendere il cavallo, cavallo per F6, e qui può mangiare il nero in due modi, o di pedone o di torre. Se mangiare di torre arriva donna di 5 scacco, attacco re e attacco torre. E quindi chiaramente netto vantaggio del bianco. Se invece mangiare di pedone, sempre donna di 5 e su re in H8 torre in B1. Paradossalmente questa colonna B aperta diventa un vantaggio per il bianco. Se il bianco la sfrutta a suo favore, questo è veramente paradossale perché inizialmente sembrava che dopo donna B2 il bianco non avesse chance, la regina è entrata, c'era torre in B8, invece è un fattore vantaggioso per il bianco. Infatti arriva torre B7 e qui la partita è finita. Torre D8, qua finisce con una mossa spettacolare. Se vi va di provare a vederla, magari mettete pausa, appiccateci un attimo, però è veramente difficile ed è donna E6. Wow! Ma la partita in realtà non è finita così. Ora, è questa che sia una variante. Donna E6 è pazzesca perché se mangia c'è scacco matto, se invece non mangia banalmente l'alfiere cade. Torniamo indietro perché su cavallo H5 il neo ha giocato il cavallo per H5. Pedone per, pedone attacca G6 e qui si stanno aprendo tutte le linee. La colonna G ora è aperta, la colonna H si sta aprendo, sta diventando veramente difficile per il neo resistere. al fine 8 per difendere il pione G6. B3, il bianco a questo punto come dicevo sempre dà un occhio all'attacco e alla difesa. Il bianco non ha fretta, qui l'attacco c'è e allora a questo punto non c'è motivo di permettere l'attacco del bianco. Il nero non ha voluto mangiare, ok, non permettiamo di mangiare nelle prossime mosse. B3, pedone per, pedone per. Donna C5 attacca il cavallo e attacca, miaccia lo scacco, inoltre propone un cambio di reggine che sarebbe a favore del nero ovviamente, perché? Perché se stiamo attaccando vogliamo tenere in gioco tutti i pezzi pesanti ma anche più pezzi possibili. In meno pezzi sono in gioco più difficile che l'attacco vada a buon fine. Cavallo in D5, fantastica. Si ostacola il cambio di reggine, quindi si evita il cambio di reggine, si minaccia due volte il più o meno 7, ma soprattutto mangiando con cavallo e pure scacco. Torre in B7, vediamo però al volo donna 3 scacco, perché potrebbe essere pure questa fastidiosa, ma dopo re D2, donna 5 scacco, B4, non ci sono più scacchi, non c'è più nulla e attenzione perché non funziona il straificio, perché c'è una bellissima scacco di scoperta e si mangia la reggina. Torniamo indietro, quindi torre in B7 per raddoppiare ma ormai è troppo tardi e ora si conclude l'attacco. Cavallo pre 7 scacco, torre pre 7 deve il nero scedere la torre, qui non c'è alternativa, donna pre 7, torre in C8, torre in H2 per difendere il matto, sempre uno sguardo alla difesa, G per H5, si con la G e quindi torre G2 scacco, al fine in G6, torre per D6, guardate come tutti i pezzi pesanti stanno attaccando, donna 3 scacco, torre in D2 per evitare lo scacco ovviamente, torre F8, torre in D8 e a questo punto il bianco ha un netto vantaggio di materiale e non c'è più motivo di rischiare e continuare l'attacco ma basta semplificare, come sappiamo quando siamo in vantaggio, basta semplificare quindi scambiare i pezzi per vincere il finale abbastanza semplicemente, quindi cambia le torre, cambia le regine e John Nunn, questo fortissimo grande maestro, vince questa bellissima partita dopo altre 2-3 mosse, ecco qui, il nero ha abbandonato, banalmente questo pedone viene preso dalla torre e poi non c'è più storia. Allora, fatemi sapere che ne pensate, secondo me è una partita veramente fantastica perché all'interno viene spiegato questo attacco dei nero-haterogeni, ovviamente vi invito comunque a vedere altre partite su questo tema, se vi piace giocare queste linee, che io adoro, quindi anche in questo canale sicuramente avrete visto in alcune partite magari giure da me che gioco queste linee. Fate sapere nei commenti che ne pensate, come sempre lasciate un like se vi è piaciuto il video e ancora auguri di buone feste e anche il felice anno nuovo. Ci vediamo alla prossima, ciao!